E quindi quando va a vedere come sono fatti i metadata è in grado di darmi le informazioni del caso. Per questioni di tempo non vi faccio vedere come customizzarlo, ma in realtà sotto questa directory voi avete la possibilità di andare a decidere ogni campo come deve essere gestito. Il motivo per cui un boolean viene fuori con una checkbox è perché qua dentro c'è un template per la fase di visualizzazione che si comporta in questa maniera, è un template per la fase di editing che si comporta in quest'altra. È tutto altamente customizzabile usando quelle che vengono chiamate le data annotations, cioè io posso decorare una classe per dire guarda questa classe quando deve essere renderizzata è di tipo phone e quindi fammi vedere un orario. Cliccando sopra posso fare la chiamata al call to e parte in automatico del mio software di VoIP. Si possono fare tutta una serie di integrazioni usando questa roba che probabilmente meriterebbero una sessione apposta per essere spiegate. Quello che è interessante dal punto di vista di chi già l'ha usato è che finalmente si possono fare query diverse dall'uguale. Nella versione 1 potevate fare filtro solo con l'uguaglianza che diciamo è un caso limite, tendenzialmente noi facciamo filtri con tutto ciò che è diverso dall'uguaglianza. Nella versione 4 esiste un controllo a parte che si chiama query extender che consente di fare proprio questo tipo di lavoro. In più per quanto riguarda la cache, SP.NET 4 introduce il concetto di provider per cui è in grado di garantirvi ancora maggiore estendibilità per quanto riguarda la gestione della cache. Questo è vero tanto per la cache di dati, la cui architettura è stata totalmente rivista, tanto per quella di output che consente di specificare in maniera molto semplice dove deve essere andato a salvare un certo dato. Di default noi siamo abituati a pensare alla cache in memoria ma in realtà esistono dei prodotti come per esempio Windows Server App Fabric Caching che una volta si chiamava molto semplicemente Velocity che consentono di fare cache orizzontale, cioè io anziché salvare nel singolo computer, nel singolo server e ogni volta che ho situazioni di load balancing di fatto sprecare e non avere allineate le varie versioni in memoria tra server diversi posso mettere una batteria di server o un server condivisi che come lavoro fanno quello di farmi appunto da gestione della cache. Nella versione 4 in più c'è la possibilità di farci un provider custom che non è molto complesso dal punto di vista del codice e che consiste in questo. Mi definisco una mia classe, che è questa, che prevede di fare il caching su disco. Mi definisco una mia entry così che possa gestirla a mano e poi alla fine implementando questa classe base devo andare ad implementare ovviamente in maniera esplicita due metodi, soprattutto add e get e poi in più c'è un terzo che è remove. Questo codice qua non fa nient'altro che serializzare a mano, usando il banale di formatter dei dati e li salva su disco anziché in memoria. Qual è il vantaggio di una tecnica simile? Per esempio questa sopravvive al riciclo dell'application pool perché è in grado di farlo. Se avete un sotto insieme di dischi, un sottosistema dischi molto veloce, spesso può essere una tecnica accettabile. Come si registrano? Si registrano all'interno del web.config e si dice guarda il provider per la cache usando il solito provider model ormai interrotto nella versione 2.0 è questo. A livello di codice io posso impostare il provider o direttamente dentro la direttiva cache oppure attraverso del codice. Quindi io posso scrivere guarda se il path contiene output cache allora usa disk cache altrimenti usa quello di default. Questo vuol dire che quando io vado a vedere nel browser questa mia applicazione, questa mia pagina verrà creato in automatico, in app data, il file che di fatto mi tiene il dato in cache. Questo ovviamente mi consente di fare cache ovunque la mia immaginazione mi spinga a farla. L'unico limite è che ovviamente i dati devono essere serializzabili perché in questo modo noi possiamo salvarli da qualche parte in un formato che poi possiamo andare a ricaricare in maniera tale da non perdere informazioni. Ora la cache invece dei dati è stata spostata da system.web che è l'assembly di ASP.NET ed è stata messa in system.runtime.caching per fare in modo che tutte le applicazioni di qualsiasi tipo possano usare la cache. Non è detto che per forza la cache sia utile soltanto nelle applicazioni web, può esserlo anche in quelle Windows. E quindi è stata spostata. Ovviamente per compatibilità le vostre applicazioni continueranno a funzionare ma grazie a questo nuovo modello potete fare in modo che i provider per cache possano essere creati in maniera più semplice. Quindi potete andare a salvare questi dati senza dovervi scrivere voi a mano tutta la logica come invece era obbligatorio fare con la 3.5 per avere lo stesso risultato. Ora l'ultima parte e ho finito e ho battuto il record riguarda il deployment in questa versione di Visual Studio vengono introdotte due novità una che si chiama web config transformation che vi faccio vedere tra un attimo e l'altra che si chiama one click deployment web config transformation è questa lavora solo con i progetti scusatemi open project ho fatto è una musica inquietante perché tanto ho finito figo noto a me stesso mai distruggere le solution che funzionano perché tra l'altro Visual Studio potrebbe prendersela a mano a male potrebbe project apriamo direttamente il progetto ora se diamo un'occhiata a questo web.config notiamo che ne abbiamo due uno che si chiama .debug e uno che si chiama .release questo serve per togliere il vostro incubo di mettere in produzione un'applicazione con la stringa di connessione sbagliata in automatico in base a questa finestrella quando andate a compilare lui sostituisce in automatico le impostazioni che sono messe nei due file di configurazione questo è customizzabile perché potete aggiungere non so anche staging e gestirlo in maniera opportuna ad esempio in questo scenario io nel debug vado a sostituire totalmente la stringa di connessione in maniera tale che ovviamente nel debug utilizzi il database di sviluppo e poi quando vado in produzione non la tocchi e quindi continui a utilizzare questa stringa di connessione tutto ciò è possibile per tutte le sezioni del sito ed è possibile fare il replace fare il set di un singolo attributo fa tutta una serie di caratteristiche interessanti in più dal menu build c'è questo publish se non ricordo male no non lo confio eccolo qua che oltre al classico publish che abbiamo visto sempre che è ftp file system front page bla 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 ha questo web deploy se il vostro provider di hosting supporta questa modalità e a regime un po' tutti i provider ovviamente lo faranno perché stanno lavorando con microsoft voi dovete mettere semplicemente l'url remoto username e password e in automatico fa un pacchetto lo mette online ed è in grado di installarvi l'applicazione eventualmente tutte le impostazioni di IIS perché lavora con IIS 7 e anche i database facendo semplicemente clic qua su publish questa per chi lavora con applicazioni su hosting è un'innovazione davvero interessante chiudo in maniera spudoratamente veloce facendovi un piccolo riepilogo allora abbiamo provider model per tutto abbiamo in realtà la possibilità di utilizzare session state zippabile grazie al fatto che ormai abbiamo delle CPU che sono potentissime se ne andiamo a comprimere session state in memoria risparmiamo memoria ormai il limite delle applicazioni web ad alto traffico moderne è la memoria tutto il resto ne abbiamo in abbondanza quindi consumando meno memoria l'applicazione scala meglio in più abbiamo una una request validation estensibile cioè se non vi piace il modo in cui ASP.NET fa l'HTML encode o lo URL encode potete finalmente cambiarlo se non vi piace scrivere a mano il redagret permanent cioè andargli a dare il 302 per i motori di ricerca per dirgli che quell'URL è cambiato per sempre avete finalmente la possibilità di usare un metodo che si chiama redagret permanent che lo fa per voi in più abbiamo la possibilità di configurare in maniera più semplice l'applicazione e credo che avendola fatta in 35 minuti più veloce così non potevo riuscire un po' di promozione se vi è piaciuta questa sessione questi argomenti da un punto di vista pratico li trovate dentro il mio prossimo libro in inglese se no c'è anche uno in italiano che lo fa invece sugli argomenti da un punto di vista più discorsivo quindi vi spiega da la alla z come sono fatti e non come usarli nelle vostre applicazioni basta grazie a tutti